La partecipazione è grande, è grande davvero. Siamo qui, che tanto inizia il flash mob, non so a che ora, penso alle 7, comunque i gruppi stanno arrivando, yeah! E non ce l'aspettavamo, tre mesi fa quando eravamo a casa sua a progettare questa cosa non ci eravamo mai immaginate che ci sarebbe arrivato a questo. Comprato Bolli! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.